Ciascuno può dare il proprio contributo nell'emergenza per il coronavirus, certamente prima di tutto rispettando scrupolosamente le disposizioni che sono state date per contenere l'epidemia, ma si può anche fare di più. Per questo i giovani dell'associazione Fondo Marco Mungai hanno avviato una raccolta di fondi via internet a favore dell'ospedale San Jacopo, vero baluardo della sanità pistoiese, in questo difficile frangente. La raccolta avviata con grande risposta di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe si chiama Covid-19, sosteniamo l'ospedale di Pistoia. Insieme a un gruppo di ragazze, al Samo Meccolor Park, al vivaio Innocenti Fidelio e al Pistoia Basket e alle persone di Gianluca della Rosa e Lorenzo D'Ercole, abbiamo deciso nelle ultime ore di lanciare una campagna di donazioni in favore dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Abbiamo deciso di aprire questo progetto e già in meno di 24 ore abbiamo raggiunto quasi 20.000 euro. La cifra deve aumentare sempre di più, infatti vi invito a donare. Si può fare questo tramite il sito GoFundMe, trovate il link nelle varie pagine di Facebook, spazio per Facebook di Pistoia, tra cui la pagina del Fondo Marco Mungai. In questo sito dovete cliccare su Donaora e potrete donare minimo 5 euro e tutte le altre cifre che voi volete. Ogni contributo è veramente ben accetto. Per dare un contributo tangibile all'ospedale della nostra città. Ci teniamo a ringraziare i medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero dell'ospedale San Jacopo. Invitiamo le altre associazioni del territorio ad unirsi a noi così da raggiungere una cifra ancora più alta, anche perché siamo in contatto con l'ospedale di Pistoia. Ci hanno detto che questa cifra può essere utilizzata per andare a acquistare degli oggetti di cui l'ospedale in questo momento ha bisogno. Quindi più soldi abbiamo meglio è appunto per avere più scelta sull'acquisto ed affarsi. Grazie a tutti.